Dal bancone del bar alla vetrina virtuale dei social network. In tempo di Covid, in mezzo alla crisi economica vissuta dai pubblici esercizi, la piacentina Melissa Lupo è stata capace di reinventarsi nel mondo digitale per superare un momento di difficoltà. La 23enne lavorava infatti come cameriera in un locale in città. Prima dell'arrivo della pandemia, nel weekend, io lavoravo in un bar. Ne ero trovata questo piccolo lavoretto per poter essere un minimo indipendente dalla mia famiglia. Con l'arrivo del Covid però sono cambiate tante cose. Dopo mesi ho dovuto reinventarmi. Ecco la nuova strada intrapresa dalla ragazza per continuare a rimboccarsi le maniche anche in epoca Covid, mentre frequenta la facoltà di ingegneria informatica al Politecnico di Milano. Ora lavoro per un'azienda che si occupa di prodotti per la cura della pelle, di cosmetici e quant'altro. Inoltre ho scelto di svolgere questo lavoro soprattutto sui social. Quello di Lupo è uno dei tanti esempi della trasformazione quotidiana dettata dal Covid. Molti lavori sono stati messi in discussione, altri sono invece emersi come vere e proprie novità e alcuni giovani, chiusi tra le mura di casa con pochi punti di riferimento, si sono ingegnati per guadagnare qualche spicciolo nella dimensione online.